Mamma mia, ogni inizio estate è sempre così, è sempre così Capaccio Rosso Nere, il tifoso deve vivere un dramma societario, praticamente stanno uscendo articoli su articoli contro Maldini, contro la dirigenza, forse quello va via, Moncada non rinnova, Pioli rimane non si sa, Pioli non è in discussione, Maldini si, alcuni giornali che dicono Maldini non è in discussione, Pioli si. Allora cerchiamo di fare ordine, come sempre cerco di filtrarvi cosa ritengo vero e cosa ritengo falso, però prima di iniziare Capaccio mi raccomando, il vostro sostegno è la cosa più importante che ci sia, quindi like al video, commentate, condividetelo con gli amici, iscrivetevi al canale, raggiungiamo i 1000 iscritti nel minor tempo possibile, ma soprattutto ragazzi, soprattutto, correte anche di iscrivervi al canale di Domebetti Josipiosef, con cui condivido l'angolo rosso-nero, in live, ormai praticamente da mesi e mesi, ogni martedì o mercoledì alle 17.30, è una diretta itinerante, ogni volta la trasmette uno dei nostri tre canali, quindi rimanete aggiornati nelle nostre community. Ragazzi, niente, ennesima polveriera in casa Milan, questo perché non possiamo mai stare tranquilli e questo perché le indiscrezioni che filtravano di malumore all'interno della società di visioni diverse, tra Maldini e Furlani e Gerry Cardinale, alla fine sono vere, sono vere. Partiamo con ordine, subito dopo l'eliminazione dalla semifinale di Champions League, praticamente Maldini ha rilasciato delle dichiarazioni dove praticamente invitava la società di investire adesso, perché quando tu accorci i tempi e magari overperformi, riesci a fare miracoli, perché il Milan ragazzi quando è arrivato secondo non aveva una rossa nel secondo posto, quando ha vinto lo scudetto non aveva una rossa per vincere lo scudetto e quando è arrivato in semifinale di Champions League ovviamente non ha una rossa per arrivare in semifinale di Champions League, Maldini giustamente dice cogliamo la palla al bazzo perché altrimenti si rischia di fare due passi indietro, quindi richiama investimenti, investimenti perché ha ammesso che la rossa ovviamente non era profonda per poter affrontare in maniera adeguata due competizioni. Ora ragazzi, vedo tifosi rossoneri che vogliono le dimissioni di Maldini perché ha sbagliato il mercato, io ragazzi vi invito sempre a considerare il tutto, è vero che Maldini ha sbagliato delle scelte di mercato, ma io vi ricordo che all'inizio del mercato Maldini era convinto di voler spendere tutto il budget per un difensore centrale perché riteneva che Almina avesse gravi problemi strutturali in difesa per quanto riguarda le palle alte. Possiamo dire che aveva ragione? Possiamo dire che abbiamo preso il 40% di gol quest'anno da palla inattiva? Voleva prendere Bottman, Bottman è diventato migliore difensore della Premier e praticamente da quando è andata al Newcastle, il Newcastle è la migliore difesa della Premier. Quindi contestualizziamo gli errori di Maldini. La società non ha voluto dare al suo direttore sportivo la libertà, scusate al suo direttore generale, la libertà di spendere i soldi come cazzo vuole perché parliamoci chiaro ragazzi, ci vuole ordine nelle società. Come avviene all'Inter? All'Inter Antonello, dell'area sportiva, mette mai bocca sugli acquisti di Marotta, ausilio? No, no perché da inizio anno si stabilisce un budget, bisogna fare così. Tu vai da Maldini, senti, bello Paolo, hai 70 milioni, spendili come cazzo vuoi, ricordati che però gran parte degli acquisti devono essere sostanzialmente giovani, talentuosi, però puoi mettere, come abbiamo fatto ogni anno con Giroud, con Ibra, con Chier, quei due o tre elementi di esperienza che ti possono aiutare a far crescere i primi giovani, basta. Bocca cucita, fai quello che cazzo devi, verrai valutato a fine stagione. E ragazzi, Maldini non può fare questo, perché vi ricordo che quando c'è stato il problema di Botman Sanchez, dopo la società gli ha ordinato di andare a spendere su un trequartista giovane, allora si è andato su praticamente dechetelare. Alla società non è andata bene che Maldini ha detto dopo l'eliminazione dalla Champions per mano dell'Inter e magari prendere Dybala sarebbe stato più facile, ma la società avrebbe in qualche modo avallato l'acquisto? Assolutamente no. La società invece riporta che loro potevano prendere Dybala. Infatti, mentre il Milan trattava per dechetelare, vi ricordo che era uscita quella notizia secondo cui Furlane aveva chiamato al procuratore di Dybala scavalcando totalmente Maldini. Ragazzi, parliamoci chiaro, è qui il problema del Milan, è qui. Ognuno deve avere ruoli delignati, deve fare quello punto. Per questo Maldini si è perso molto tempo per il rinnovo. E io, e io, obiettivamente, non metto le mani sul fuoco che a fine anno Maldini possa rimanere, perché Maldini lo sappiamo com'è. Maldini, ragazzi, è il garante del progetto del Milan, ma le cose, le promesse che tu fai a Maldini devono essere mantenute. Se le promesse poi non sono state mantenute quest'anno, come è stato evidente, Maldini manda tutti a fanculo. Ed è normale. Ragazzi, la continuità aziendale è importante. Io, obiettivamente, quest'anno non mi sento di dare le colpe solo a Maldini, solo alla proprietà, solo a Pioli, perché le colpe le hanno tutti. Perché? Se noi siamo una società che investe sui giovani e vuole far esplodere i giovani, dal canto suo mi aspetto che Pioli mi mette degetelare, titolare, più partite con la squadra titolare, 5, 6, 7, perché l'obiettivo è valorizzare degetelare. Se poi Pioli non vede gli acquisti giovani che li sono stati fatti, c'è un problema, c'è un cortocircuito, è un cane che si morde la coda, le cose devono essere delineate. Le colpe Maldini le ha. Perché? Premesso che ha dovuto iniziare per colpe della società e del mercato ritardo, se non ti va bene l'acquisto di Sanchez, perché Sanchez alla fine si rompe con l'idea di aspettarti, e ha anche ragione, decisi di andare al PSG, tu non puoi passare da Sanchez a Vranx, perché lì c'è proprio un problema concettuale di idee. Cioè tu, per il dopo che si, sei passato da un giocatore che ha fatto la Champions, ha esperienza, titolare con la maglia del Portogallo, a, col seno di poi, meno male che non è venuto perché ha avuto un sacco di infortuni, a Vranx, un giovane con i peli pubblici. A quel punto, se tu avevi deciso di investire su un calciatore pronto per il dopo che si, non mangiarti l'obiettivo. sfumato Sanchez, ci sarà, cioè, per carità, ve la butto lì, a quel punto prendi Tamezze, ma non perché Tamezze ti possa dare più di Vranx, ma perché se il tuo allenatore ritiene Tamezze un profilo pronto, che puoi giocare subito, prendi Tamezze, vai a prendere un altro, tra virgolette, pronto, come può essere il Sanchez, paga quei 25 milioni, al Chelsea l'anno scorso, per prenderti l'office chic, vai a prenderti un altro giocatore pronto, perché quello che si critica è l'idea, è l'idea, volevi prendere Sanchez, vai su un altro calciatore pronto, ma non sono finiti qua ragazzi i problemi in orbita rosso e nera, perché Moncada, vi ricordate che due mesi fa si era parlato di nuovo fatto di Moncada, Moncada ancora non ha firmato, perché è vero che ha trovato l'accordo con la società, non firma, perché lui vorrebbe avere più voce in capitolo, perché dice a me non mi ascoltano, perché Moncada subito dopo l'acquisto sfumato di Sanchez, aveva portato in quella settimana il profilo di Enzo Fernandez, da prendere a 15 milioni, Enzo Fernandez aveva messo i stand by il Benfica, perché attendeva il Milan, Maldini non ha ascoltato le parole di Enzo Fernandez, che aveva portato relazioni su, scusate le parole di Moncada, che aveva portato su questo Enzo Fernandez relazioni entusiaste, col senno di poi giustamente Moncada, di giro di coglioni, perché dice io porto, 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 porto giocatori, ce ne fosse uno, che mi viene approvato, che alla fine la società Milan corre a prenderlo, col senno di poi si è andato su Franks, il profilo che non era il primo obiettivo, non era il secondo, non era il terzo, e forse neanche il quarto, per carità, Franks è anche un buon giocatore, ma se poi il tonnellatore non lo vede, siamo sempre là, ragazzi, io so dell'idea che Adli è un top giocatore, un ottimo giocatore, un meraviglioso giocatore, un prospetto campione, io posso pensare quello che voglio, per carità, ma se poi il tuo allenatore non vede Adli, non ha senso che prendi Adli, poi possiamo dire tutto quello che vogliamo, che è inspiegabile, questo mancato minutaggio, perché De Ketelar ha fatto schifo, perché Diaz ha avuto una stagione da Dr. Jackie, Mr. Hyde, quindi mi aspettavo, ha dimostrato ogni volta di essere vivo Adli, però ragazzi siamo là, il problema del Milan è che serve ordine, serve ordine, tu Furlani, non devi rompere il cazzo a Maldini, perché Maldini è il direttore dell'area sportiva, tu Furlani occupati dello stadio insieme a Scaroni, cioè parliamoci chiaro, e questo è il problema, porta sponsor, fai quello che è il tuo lavoro, voi dovete riunirvi prima dell'inizio del mercato, fare un summit e dire, allora signori miei, abbiamo preso questo dalla Champions, abbiamo preso questo dagli sponsor, ci sono 80 milioni da investire sul mercato, li date a Maldini, le linee guida della società quali sono? Questi 80 milioni, dobbiamo prendere quest'anno due giocatori tenenti, milioni di prospetti, però puoi prendere, come fatto sempre, come da sempre avete concesso, quei due o tre calciatori di esperienza importanti, che tu reputi fondamentali per accelerare il processo di crescita dei giovani che abbiamo, perché così si fanno le squadre vincenti, si associano i migliori talenti europei, giocatori già pronti, che poi, parlandoci chiaro, è in grande quello che può fare il Beiro Monaco, perché il Beiro Monaco è vero che ti va a prendere, per dire Sanè, giocatore, scusate, Manè, giocatore di esperienza, ma poi, negli anni, ti va a prendere i migliori giovani, ti va a investire su De Ligt, ti va a investire su Sanè, ti va a investire su giocatori, che ovviamente noi attualmente non possiamo permetterci, però il progetto Milan è quello a cui deve puntare il Beiro Monaco negli anni, quando ricaviamentano, quando è lo stadio, quando poi tu, invece di spendere 30 milioni per un giorno, ne puoi spendere 50, e ti va a prendere il miglior prospetto, ti va a prendere il Chouameni, ti va a prendere il Kamavinga, e che poi in reale ha pagato 35-40, quella è quella a cui dobbiamo inventare, ma questo non può esistere senza chiarezza, senza armonia in una società, ragazzi, quest'anno la colpa ce l'hanno tutti, è inutile, è innegabile, dare la colpa solo a Pioli, dare la colpa solo a Maldini, dare la colpa solo a Caldinari, dare la colpa solo a Furlani, dare la colpa solo a Scaroni, che pensa solo allo stadio, no, le colpe le hanno tutti, le hanno tutti soprattutto perché dall'inizio, la stagione è iniziata con il caos, e quando tu hai in società caos, nessuno può fare il proprio lavoro con serenità e libertà, perché Maldini ogni volta i coglioni girati, che puntano l'obiettivo, e poi deve chiedere il permesso, e poi ci devono riunire per dargli il permesso, contemporaneamente le agenti del calciatore dicono, lo sentite signori mei, vaffanculo, ce ne andiamo, come è stato per botta, ma che poverino, ha aspettato 40 giorni il Milan, 40 giorni, ha fatto l'intervista, appena gli hanno nominato il Maldini, e il nome Milan, aveva gli occhi che brillavano dalla felicità, così ragazzi non si fa, rischi di perdere obiettivi che sono fondamentali, delineati importantissimi, da quelli a cui tu hai affidato, sostanzialmente, il comando dell'area sportiva, fateli fare il suo lavoro, così come fate fare il suo lavoro all'allenatore, così come integrate l'allenatore all'interno delle scelte, perché l'allenatore, non è che devi dire, voglio quello perché se no, no, l'allenatore intelligente, delinea un profilo, mi servirebbe un giocatore con le caratteristiche di che sì, prendetemi quello là, possibilmente che sia pronto, possibilmente preferisco avere il giovane esterno destro, piuttosto che averlo in questo ruolo chiave, perché io Pioli ritengo il mediano, un ruolo importantissimo per il mio 4-2-3-1, per dare equilibrio, per consentire le transizioni, un centrodambista box-to-box, quindi quello pronto, prendetemelo là, in questo si deve tutto quadruvare in una società, questo è di fondamentale importanza, niente capoccio, il video mezzo sfogo finisce qua, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere, secondo voi, di chi sono le colpe, Cardinale, Maldini, Massara, Moncada, veramente, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campotellina, per rimanere sempre aggiornati con i futuri contenuti, e niente raga, speriamo che questa situazione, si risolva nel miglior tempo possibile, perché, non possiamo ancora rovinare un'estate, non possiamo ancora rovinare un'estate, non possiamo ancora rovinare un'estate,